È la pena inflitta ieri mattina dal primo collegio, presidente Murano, a Latere Poggi e Mirani, a carico di Aurica Durac, senza fissa dimora e irreperibile da tempo, difesa dall'avvocato Antonella Antonelli. La romena era accusata di aver attirato in un tranello un 44enne di Scarlino, Grosseto, per poi offrirlo all'assalto dei due complici rimasti ignoti che gli portarono via la borsa in modo violento. Dopo averlo conosciuto alla stazione di Scarlino e aver deciso di andare insieme a Grosseto, la romena convince il 44enne. Arrecarsi a Pisa per prendere le mie valigie e venire Conte spiega la donna. È il giugno 2013. Solo che, appena uscito dalla stazione, l'uomo viene aggredito e rapinato dai compari della romena che lo indica agli assalitori al momento di entrare in azione. P.B.